ciao a tutti amici di my view ben trovati eccoci qua con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare la steelbook 4k di godzilla disponibile dal 22 di aprile devo dire che esteticamente è una stile che mi piace anche se il concetto che c'è dietro non mi ha fatto impazzire però adesso l'andremo a vedere nel dettaglio è una edizione che ci conferma la bellezza di questo film per due motivi principali il primo è quello che è stata dotata in questa versione 4k di un audio italiano 7.1 hd che farà sicuramente felice chi ha la possibilità di far spaventare i vicini o far chiamare la polizia e poi a devo dire un netto miglioramento per quanto riguarda l'aspetto visivo nonostante non sia propriamente un 4k nativo perché in realtà è un 2k che però devo dire ha avuto un notevole incremento di qualità per quanto riguarda la definizione il dettaglio soprattutto nelle scene più scure devo dire tanto di cappello a questa edizione è un'edizione steelbook come come vi ho appunto detto poco fa comprende due dischi ovviamente il disco blu ray e il disco 4k il disco blu ray è il medesimo del passato con le medesime caratteristiche ed extra gli extra sono gli stessi del passato e appunto la novità è questa edizione 4k con audio 7.1 come vi dicevo la steel secondo me a livello estetico è anche molto bella ma il concetto che c'è alla base della steel non mi ha fatto impazzire perché teoricamente noi dovremmo vedere la coda davanti questa deve essere la coda del Godzilla che poi abbiamo sul retro della della steel almeno io l'ho interpretata così però sono completamente differenti e non lo so il concetto a me non ha fatto impazzire e poi non mi piace molto che la costina non è omogenea a tutto il resto probabilmente proprio perché sono due scene completamente diverse insomma comunque sono due bellissime immagini però il concetto in sé non è che mi abbia fatto proprio impazzire se non erro in passato questa versione questa questo artwork è stato già utilizzato o comunque una cosa simile ed era addirittura in rilievo qui non abbiamo in rilievo non lo dico per screditare questa steel che ripeto è assolutamente molto molto bella però si può fare anche un po di critica pur apprezzando il contenuto all'interno abbiamo ovviamente i due dischi e abbiamo questo bellissimo artwork che adesso vi vado a mostrare vi ricordo che questa uscita è stata pensata anche per promuovere l'uscita imminente 6 di maggio di gozilla vs cong che dovrebbe uscire in digitale ma probabilmente con l'apertura delle sale arriverà anche in qualche cinema almeno lo spero questo è il disco 4k di gozilla con questo bellissimo artwork con il gozillone o gojira come è il suo nome originale giapponese e poi abbiamo il disco blu ray come potete vedere è lo stesso proprio con la stessa grafica classica grafica di warner sfondo nero e titolo del film e poi per finire abbiamo l'artwork interno devo dire veramente notevole da questo punto di vista probabilmente è più bello d'artwork interno come concetto ovviamente rispetto alla parte esterna anche se ripeto è molto molto bella ma il concetto di avere queste due immagini così staccate non è che mi faccia impazzire però sono due splendidi artwork sia il frontale che il posteriore nulla ragazzi per questo video è tutto se vi è piaciuto questo video mettete un bel like se vi fa piacere iscrivervi al canale attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video se vi interessa acquistare questa still vi lascio in descrizione i link a amazon e tv di storia che sono i miei punti di riferimento e noi ci vediamo molto ma molto ma molto presto con un prossimo unboxing ciao